Non vedo che, questo, nell'ultima volta che ci siamo visti, abbiamo ascoltato la presentazione del progetto e mi ricordo che abbiamo un po' condiviso vedere l'imprepandezza vostra. Non è stato che abbiamo detto, e abbiamo anche appuntato alcune, il foro, tutto il fatto che abbiamo avuto un cuore delle osservazioni al progetto, ma soprattutto avevano detto attenzione, perché comunque abbiamo ascoltato alcuni settori di essere attenzionata. E su questo ragionamento io, come un'altra persona che mi aspettavo, che la reazione fosse stata un po' diversa. Cioè quello di dire, arrivano dall'esterno gli imprenditori, ci parlano sopra il progetto, perché probabilmente noi non abbiamo ancora una chiara idea, non abbiamo un progetto alternativo. E la sicurezza nostra è la sicurezza. Mi pareva che in questa passiamo anche un po' affrontata. Io sono ancora più idea che in questo anno, ahimè, abbiamo perso un'occasione, non abbiamo un mese, non credo siamo, abbiamo perso un'occasione invece di provare a mettere in moto un processo che andasse a toccare i vari settori e a capire quello che era invece importante costruire l'alternativa al progetto. Perché se qualcuno in qualche modo vuole presentare come un'occasione e da lì io ho fatto il discorso di essere un'occasione sulla base di un'analisi che ho in disegno scorso, ovviamente da qui. Con quale dato io lo rendo un'opportunità? Con quale elemento? Tra l'altro mi ricordo anche che con l'occasione dico, posso dire queste domande, il patto visivo, il patto scioladesca, la ricaduta scioladiportistica, le corrette maniere, le tenue, tutte queste domande, io dico ma oggi avremmo dovuto avere degli elementi sulla quale poter discutere invece di un anno, ahimè, non avrebbe fatto nulla, dico noi, in realtà con una conduzione di un amministratore che poteva avviare un processo. E che era in realtà l'occasione per andare a costruire un progetto alternativo della città, che ne hanno bisogno, perché siamo consapevoli che comunque noi abbiamo bisogno di andare a affrontare grossi problemi per la testa in questo momento, che abbiamo bisogno di rilanciare il settore del turismo che rischia di accorsare se non ha tutta una serie di processi normativi, di come concepiamo il turismo, della stagionalità che deve essere dei tre mesi, tutto questo noi potevamo, avevamo un tempo di metterlo in piedi e affrontare questo che secondo me ci sarete veramente anche dagli ultimi...